oh cazzo 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 merda 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 oppla oppla uff porca miseri ok raga come dicevano delle persone estremamente sopravvalutate duemila anni fa è Rita Corrige nel senso riguardo al video uscito oggi mi sono accorto che cioè mi sono accorto con questa minchia mi hanno fatto giustamente notare che ho messo una cosa fondamentale importantissima sapete che ho appunto parlato delle campagne caro funding e di quella avviata da Kumishire su Yuki no Hito Dama il secondo volume ciò che mi sono dimenticato di dire è che prima di tutto questa campagna crowdfunding riguarda anche una sorta di novel anzi effettivamente una novel che si può ottenere con i perk che racconta da quanto ho capito la storia di dei personaggi di Yuki no Hito Dama ma dieci anni dopo rispetto al fumetto che può essere una cosa molto bellina è già quello ma soprattutto che sia la storia di Yuki no Hito Dama che per questa novel alla quale Kumishire ha lavorato è stata scritta da una sceneggiatrice nonché proprio una scrittrice italiana che vive in Giappone e è una roba che non mi doveva assolutamente scordare poi vi spiego anche perché comunque l'autrice la scrittrice proprio sceneggiatrice è Masakoi Musoka che io credo tra l'altro di aver conosciuto di persona tipo 4-5 anni fa e tra l'altro ha persino avuto il mio stesso percorso di studi più o meno però anche lei laureatasi in lingua e letteratura giapponese da quanto dice la sua bio che trovate sempre sul sito dell'Indiegogo anche appassionata di Izumi Kiyoka e di Akutagawa Ryunosuke che sono due autori della letteratura giapponesi che sono una roba un altro po' soprattutto Akutagawa Ryunosuke lo conoscerete per Rashomon e per Yabunonaka quindi voglio dire è pure una mia senpai in tutto e per tutto e tanto no e tanto lo 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 screditate in questo modo e appunto mi dispiace assolutamente ma sono serio di averla omessa nel 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 video non solo appunto perché è la legittima autrice della storia da quanto ho capito prima lei ha pensato tutta la storia e poi ha contattato Kumi per farci capire quindi qualcosa vorrà pur dire ma soprattutto mi dispiace perché da altra persona che scrive so quanto già è difficile essere considerate nel senso che disgraziatamente chi scrive e basta scrive e basta di conseguenza non è che possiamo pubblicare i soggetti o le pagine di sceneggiatura e queste vengono ricondivise nelle pagine in giro e e roba del genere noi non abbiamo i mezzi e la possibilità di essere virali di chi disegna e quindi già è difficile così non essere considerati addirittura da dei colleghi un pochino cioè un pochino farebbe giustamente incazzare e quindi niente mi dispiace massa mi dispiace di averti escluso nel nel primo video purtroppo appunto stare a ricaricarlo e tutto sarebbe un casino e poi comunque preferisco ammettere in questo modo di aver sbagliato chiederti pubblicamente scusa e niente grazie mille soprattutto a Cumi che mi ha giustamente fatto notare che ti avevo completamente ignorato e mi dispiace molto di nuovo e niente perdonami e questo serva di lezione a me e soprattutto così ho modo anche di comunicare a voi il disagio che rappresenta quello di scrivere e basta che è una roba giustamente per cui servono delle competenze ma per cui a volte si viene ignorati persino dalle case editrici che preferiscono affidare un progetto intero per un fumetto a una persona che disegna e basta e non scrive e poi come risultato il fumetto esce con una storia che non ha senso invece di andare appunto cercare dell'agente professionista in questo lavoro e niente appunto scusate per questo per questa piccola cosina e ancora scusa massa per per tutto questo non ricapiterà giuro non ricapiterà